Palermo, capitale dell'Opera della Cultura nel 2019, credo che la città di Palermo abbia già presentato il suo dossier con questa settimana di iniziative che danno il senso che nella città è passato il messaggio che candidata capitale dell'Opera della Cultura e l'intera città è non un'amministrazione, per questo la presenza di tutte le istituzioni culturali dall'università al conservatorio, dall'Accademia di Belle Arti al Pedro Massimo è la conferma, se ne fosse bisogno, che i tempi sono maturi perché noi possiamo credibilmente candidarci ad essere nel 2019 capitale dell'Opera della Cultura. Grazie. 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 Grazie.